Oggi si è preparato? Forza Napoli! Io sono qui e ho una paura, ma lei mi dice Forza Napoli, ma c'è po' che non fa così. E' normale che fa da mangiare Giulietti. Giulio è già venuto con me perché la prima l'abbiamo vinto con la zero, siamo una formazione imbattibile.